ma secondo voi posso sostituire questo hakaida 100 più 100 watt e questo technics digitale quartz synthesizer st trattino g3 tuner questo blocco qua secondo voi mantenendo le stesse casse che ne pensate se io lo sostituisco con questo una buona politica di guardare quelli che quando si dice il diritto umano due ore di lavoro per montare questi cazzo di diodi recuperati diodi che erano lucidi sabbiati con la carta vetrata montati in antiparallelo con la resistenza e poi saldati qui però wow questo blu meraviglia ora qua manca la sintonia che è lì adesso di mondo godo godo i vostri uomini no no Grazie a tutti.